1970 cosa mi ricorda? Mi ricorda i primi anni della mia fanciullezza, mi ricorda il primo approccio che ho avuto, ho conosciuto il mare. Io ero ragazzo di campagna, di una ruralità dell'entroterra e mentre io ragazzino conoscevo il mare, quelli un po' più grandicelli mettevano il primo passo e il primo piede sulla luna. Quindi la luna non era più un sogno, era una realtà. Da lì qualcuno pensò anche che si poteva fare tutto, poi il tempo ci ha poi insegnato che proprio così non era.